Salve carissime, bentrovate, buongiornissimo dalla vostra Zaira, eccoci qua nel nostro consueto appuntamento del messaggio del giorno per voi. Allora, come state ragazze? Spero bene, spero che i miei video, i miei interattivi vi piacciono, che vi tengono compagnia, questo è il mio desiderio. Vi ringrazio sempre di venire a commentare, insomma comunque siete sempre presenti nel canale e io vi adoro, siete proprio la mia forza. Allora, andiamo a prendere la prima carta per quando riguarda il messaggio del giorno per voi di stamattina. Allora, abbiamo i Rider White Tarot, meravigliosi tarocchi, di cui prendiamo una carta. Adesso stiamo mischiando i Romantic Tarot, carte romanti, tarocchi romantici. Vediamo cosa ci dicono stamani per voi. Allora ragazze e ragazzi, sapete benissimo che il messaggio del giorno è sempre un interattivo collettivo generale, quindi prendete sempre tutto con le dovute cautele. Fermo restante che non esistono le coincidenze, per cui se voi vi trovate qui in questo momento ad aprire e ascoltare questo video, l'universo, il fatto, le carte, la sorte, il destino, quello che volete, qualcosa vi deve arrivare. Le sibille francesi. Allora, andiamo qui adesso a mischiare i tarocchi dell'indovino. Allora, ragazzole mie, sapete che il messaggio del giorno non lo decidete voi, non lo decido io, lo decidono le carte. Quindi l'argomento, diciamo appunto, il messaggio subliminale che deve arrivare, lo decidono le carte. A secondo di quello che uscirà da questa mini stesa, sapremo di che cosa si parla. I tarot muccia, stiamo mischiando i tarot muccia. Fermo restante ragazze e ragazzi, qua è uscita la carta, la prendiamo. Fermo restante che sapete benissimo che se volete analizzare una situazione che vi sta particolarmente a cuore, allora ecco che lì dovete, diciamo, necessariamente farlo con un consulto personalizzato. Per tutti coloro che hanno piacere di farlo con me, nella descrizione del video ci sono i miei contatti, zairafassarigmail.com oppure nel mio profilo facebook zairafassari o ancora nel mio profilo instagram zaira e sui tarocchi, sempre messaggio privato. Abbiamo pescato una carta degli angeli del cuore. Adesso stiamo mischiando le risposte degli angeli, quindi vediamo ancora che cosa ci vogliono dire queste meravigliose carte oracolari. Prendiamo l'ultima carta ed ecco qua, toc 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 toc. Cosa ci vorranno mai dire queste carte verdi di zaira? Qua, come vedete, 78 carte, 78 pensieri e praticamente, come dire, concepiti, partoriti dalla vostra zaira. Quindi qua ci sono anche dei pensieri, delle sensazioni. Andiamo a vedere cosa ci vogliono dire queste carte oggi. Prendiamo una carta e quindi andiamo ad analizzare cosa succede oggi o comunque cosa vi vogliono dire oggi queste carte. Abbiamo la carta sono interessato a te. Quindi qua parliamo di una persona, un personaggio che è interessato a voi, uomo o donna, sapete, girate. Allora abbiamo la carta degli angeli che ci dice no. Poi abbiamo amore non corrisposto, 9 di bastoni. Abbiamo il 7 di coppe però capovolto. Poi come carta delle sibille abbiamo il trifoglio che è una carta bellissima di fortuna. Abbiamo il 5 di bastoni e i red and white ci danno il 9 di coppe. Allora qui intanto andiamo a vedere che comunque c'è una volontà delle intenzioni, un progetto nei vostri riguardi. Vedete qua sicuramente qualsiasi sia questo progetto, qui con la carta del trifoglio, sicuramente avrete fortuna e insomma questo progetto si realizzerà. Assolutissimamente perché vedete voi con il 9 di coppe, questo è un momento molto bello della vostra vita dove voi state cercando comunque con quel giusto sano egoismo di pensare a voi stesse, cioè di mettere voi prima di ogni cosa. Ma questo non significa appunto essere egoisti perché questa carta non ci parla di un egoismo cattivo ma ci parla di un egoismo sano perché nonostante si voglia avere armonia, successo con i figli, con un compagno, con un'amica, con la famiglia, insomma con gli altri però si vuole in qualche modo avere, si vuole si vuole realizzare, cioè volete realizzare i vostri sogni, quindi vi mettete diciamo in primo piano perché sapete che se state bene voi fate stare bene anche gli altri. Quindi qua c'è sicuramente ci sono dei conflitti, dei conflitti perché qua probabilmente voi avete avuto o avete un matrimonio con cui diciamo ormai è rimasto soltanto un conflitto di interesse, non c'è quella gioia sana che voi vorreste. Però qui le intenzioni, i desideri vostri avranno successo, dovete semplicemente superare questi ritardi, questo nome di spade che necessita riflessione per i progetti piacevoli. Quindi voi sicuramente avete qui una situazione regressa del passato che non vi ha dato soddisfazione e gioia per quando riguarda un matrimonio, un'unione, un qualcosa con un'altra persona. Però qui sicuramente ci sono stati dei momenti no, molto brutti nella vostra precedente relazione, probabilmente questa persona del vostro passato non corrispondeva diciamo il vostro amore. Vedete qui non c'era abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione vostra del passato potesse funzionare. Però attenzione, attenzione, qui c'è una nuova situazione, c'è una nuova persona che viene verso di voi, una persona che ha volontà, ha intenzioni, perché questo sette di coppe ci parla di un progetto fortunato, di un progetto fortunato e di una gioia. E questa persona vi dice o vi fa capire che è interessato a voi. Quindi qua, ricapitolando il messaggio, vi parla di un qualcosa del vostro passato che vi ha fatto soffrire, che vi ha messo però nella condizione di pensare di più a voi stessa in maniera sana e che c'è anche una situazione, un desiderio, una volontà di un'altra persona che già è arrivata nella vostra vita, ancora non l'avete identificato, o sarà per arrivare o arriverà. Con questa persona ci saranno delle intenzioni, delle volontà diverse, dove ci sarà fortuna in tutto, in tutto, perché questa persona vi dirà da subito sono interessato a te, quindi sarà una persona realmente interessata a voi. Ragazze, che dirvi? Il messaggio mi sembra veramente stupendo. E dà un'occhiata al passato, al presente e anche al futuro. Io vi ringrazio, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti. Sapete che io vi leggo tutti, sono molto curiosa di sapere se ci sono dei riscontri. Un bacione grande dalla vostra Zaira. Ciao, buona giornata a tutti!